Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi facciamo dopo tanto tempo Anche Lo facevo nel mio primo canale Intanto passate nel mio canale E' francesco32 Passate lì E comunque oggi facciamo la reaction di Bayer Monaco Wallsburg 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 E' solo che ho questo accento di tedesco Prima sapevo parlare tedesco Però diciamo che ho dimenticato come si fanno le Cioè si L'accendo non so farei più Comunque Scusate mi stai venendo a dire un po' stanco Ma perché Sono molto stanco infatti Questa settimana molto recambolesca Sono un po' stanco Comunque Oltre alla stanchezza io faccio anche i video Nessuno mi ferma a fare i video Comunque Partiamo con la reaction Direi che Bayer ha dominato Ah poi un avviso Un'ultima premessa Una Una Come si dice Ah una parentesi Dovrei dire che io sono tifuso del Bayer Infatti se vedete ho la cartella qui Non so se si vede Non so se si vede Ecco Comunque la sciarpa La sciarpa E Il cappello Cappello visire del Bayer Quindi sono tifuso Del Bayer Anche se C'è Non c'è un tifuso qui del Bayer in Italia Comunque sono tifuso del Bayer E anche dell'Indo Vado se volete la reaction oggi Scrivetelo Nei commenti Di Interspal Comunque La partita è stata dominata Dal Bayer Come vedete Si Si Pappine Allo Osborne E 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 Primo posto del campionato Dove Li aspettavo il primo posto Perché E 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 Penso che Solo Merde E E Solito E Primo posto Con un pari merito Borussia E Stanno facendo una Una Grande E E Battaglia Primo posto Tra Borussia E Bayer Questo è Tutto C'è E E Sono stati 12 tiri in porta Ho visto le statistiche Ho visto anche La glides E Nonché anche La partita In corso E C'è Mi sembra Che Tirava solo Il Bayer Perché C'è stato 12 tiri in porta Del Bayer Ma Uno Del Wolfsburg Che è stata Anche Una Buonazione Solo che Noi abbiamo I Potenti Tra i Grandi Devo dire I Migliori Difensori Della Storia Del Carcio Anche C'è Della Germania Anche Del mondo C'è Questo è Stato Tutto Il Wolfsburg Mi dispiace Ma Non so Se è Decimo In campionato O Dodicesimo Non mi ricordo Tanto Bene Comunque Non è proprio La sua stagione Perché Mi ricordo Le altre stagioni Che Con Cal Bayer Mi ho fatto Una volta Anche Vendo Ma L'iuscire Era un'altra squadra Comunque Se dovevi Dire Se C'è Una Stocco Se dovevi Dire Kovac Cosa ne penso Di Kovac Kovac Secondo me Era meglio Hink Non lo so Era anche Un Anziano Allenatore De Bayer Che è stato Anche Giocatore Non che C'è Mi sembrava La tattica Era più Offensiva C'è Più Che dava Grinta Aggressiva Faceva Pochi passaggi Mettevano Sempre gol Facevano Gioco Di squadra Ora Boh Non mi sembra Col Kovac C'è Non Non penso Ho visto La tattica Di Kovac Non è che Mi piace Tanto C'è Questo è Proprio Il mio Pensiero Su Kovac Kovac Visto Che ha Detto Questo Pensiero Non è Non è Che Mi ha Proprio Soddisfatto Venendo Al Bayern Sapevo Che Anche lui C'era Anzino 73 anni E Anziano E Deve Anche Stare Con la Famiglia Perché Anche Allenatore Non è Che Come Il giocatore Staccato Dalla Famiglia Era Era Pure Meglio Che Smetteva Di Allenare Ora Non so Cosa Fa Comunque Penso Che Ha Smesso Di Allenare Kovac Quando L'ho Vi Ci ho Detto Non lo so Poi Quando Ho visto Le prime Partite Ho detto Il Bayern Sta Calando Perché Anche Dopo Tanti Anni Non abbiamo Fatto Cioè Ribery Anche La società Robben Anche La società Poi Chi più L'Ambra Vabbè Già Se n'è Andata Dovevamo Cioè Pensare Anche A questi Giocatori Invece Noi Abbiamo Dato Dai Nel prossimo Anno Poi Vedi Come Ci Troviamo Stanno Calando Ribery Sta ancora Nel Passo Robben Ha Già Detto Che Si Arriva Una Buona Una Buona Offerta Se ne Va In Un'altra Squadra E Invece Se non Arriva Una Buona Offerta Si Ritira Penso Che E' Anche Una Buona Scelta Che Fa Se Piace Così Smettere La Nostra Di Fare La Leggenda Però È Molto Brava Comunque Iscrivete Nel Canale Andate Anche Nel Primo Canale Francesco 32 Questo Francesco 32 Vlogs Questo Canale Quindi Iscrivete A Questo Grazie Iscrivete Anche Nel Francesco 32 O Che Ho Detto Al Primo Canale Mettete Un Mi Piace Fatemi Sapere Se Volete La Reaction Di Inter Spall Spero Che Vinciamo Forza Bayer Forza Inter Bella Ragazzi